La volontà di Decathlon Italia è quella di rendere lo sport accessibile a maggior numero di persone e se anche può non sembrare avere una logistica posizionata nel comune di Brandizzo lo fa. Noi da questa logistica riusciamo a servire 25 negozi e garantire che i nostri clienti abbiano il prodotto che desiderano nel minor tempo possibile. Questo è un deposito che ha una superficie lorda di 23.000 m2 circa, è strutturato su due cellule, una cellula che ha prevalenza di picking e una cellula che ha lo stoccaggio di materiali voluminosi. È prevista un'estensione di altri 10.000 m2 tra 5 anni circa, quando i volumi di questo deposito non saranno più ottimizzabili. Ci saranno circa 150 colleghi che lavoreranno all'interno di questo deposito. È un deposito che ha un nuovo progetto, che è quello di gestire la parte online, che oggi sta prendendo piede sempre di più in azienda e avrà una nuova forma di vendita, che è quella del click and collect. Il cliente che vuole venire a ritirare il suo prodotto che ha acquistato online potrà farlo direttamente qui in deposito. All'interno di questa piattaforma abbiamo anche un laboratorio regionale che si occuperà di riparare i nostri prodotti affinché si dia una durabilità al prodotto stesso. Vogliamo che il cliente sia soddisfatto e Decathlon gli dà il servizio anche di riparargli il bene affinché questo non debba di smetterlo e acquistarne un altro. Qui si è studiato un nuovo layout che è stato poi copiato a livello mondiale inserendo dei piani ammezzati. Questi piani ammezzati sono completamente automatizzati per gestire dei processi, dei flussi più veloci, più sostenibili e più redditizi. È stata fatta anche una scelta di tipo aziendale dove Decathlon ha investito di più per il comfort dei dipendenti perché riteniamo che noi decathloniani abbiamo bisogno di un ambiente lavorativo efficace e produttivo per garantire una solubità lavorativa. Qui infatti abbiamo riscaldato e climatizzato l'intera superficie, anche l'area dei depositi che hanno superficie di 10.000 m2 per un'altezza di 13 metri. Ci garantisce un comfort ai colleghi di alta qualità. Questa applicazione è un'applicazione LEED. Quindi LEED per noi vuol dire un concentrato di tecnologie e di progettazione per raggiungere gli obiettivi green. Abbiamo innanzitutto utilizzato materiali riciclabili, soprattutto per le pavimentazioni e per le opere civili, in conformità a quello che prescrive i prerequisiti della certificazione LEED. Abbiamo lavorato molto sugli aspetti progettuali, quindi inserendo tutto ciò che è il risparmio energetico oltre che lavorando sulla struttura passiva. Tutta l'illuminazione è garantita con le luci a LED ad alto risparmio energetico e con una domotica spinta che ci porta ad illuminare solo parzialmente le aree che non sono occupate e invece abbiamo una totale illuminazione delle parti occupate. Per quello che riguarda gli impianti elettrici abbiamo più di 350 kilowatt di fotovoltaico sul tetto. Per la fase estiva sicuramente riusciremo ad andare in autoproduzione, quindi usare tutta questa energia direttamente per il condizionamento dei locali. In questo polo logistico noi abbiamo installato degli impianti con dei rooftop, dell'unità monoblocco per la climatizzazione sia estiva che invernale. Abbiamo utilizzato per la parte del deposito 1 e deposito 2, quindi quella che è la logistica vera e propria, con 14 rooftop, di cui 10 dedicati agli spazi aperti e 4 dedicate solo al mezzanino meccanizzato. Questo per dare delle condizioni di comfort termoigrometriche migliori e localizzate per ogni reparto. Poi abbiamo le altre due corpi di fabbrica, che sono gli uffici e i laboratori. Per gli uffici abbiamo installato un sistema impianto a volume refrigerante variabile, mentre per i laboratori abbiamo installato un rooftop. Tutte le distribuzioni avvengono attraverso diffusione aria ad alta induzione, quindi con ugelli termostatici per l'area dei depositi, mentre per l'area laboratoria abbiamo un canale microforato ad alta induzione. Questo ci consente di poter raggiungere le migliori condizioni di comfort nell'area occupata, anche avendo un capannone che è alto fino a 14 metri. L'installazione dei canali infatti sono a 13,70 metri, e con l'ausilio degli ugelli e del canale microforato riusciamo a raggiungere anche le zone più protette all'interno del capannone. Per quello che riguarda la scelta delle macchine abbiamo voluto, ovviamente in ottica sia l'ID, ma anche per quello che riguarda le nuove prospettive della regione Lombardia, con i nuovi COP, le rese quindi delle macchine superiori rispetto a quelle che sono i decreti nazionali, abbiamo installato queste macchine a recupero termodinamico, che grazie al loro COP ci fanno superare le rese a meno 7 e a più 33 gradi, che indica la normativa regionale. Per quello che riguarda gli altri requisiti abbiamo un recupero delle acque piovane per scopi di irrigazione, abbiamo dei particolari sanitari per poter incidere il meno possibile sul consumo idrico dell'acqua potabile, con portate ridotte al minimo, e soprattutto abbiamo un recupero dell'energia per, fa bisogno di energia primaria, di riscaldamento e condizionamento grazie a queste unità della CRIMA Veneta a recupero termodinamico. Gli edifici attualmente nel mondo sono la prima causa di inquinamento e di produzione di CO2. Noi attualmente utilizziamo macchine che sono Euro 6, Euro 7. Per gli edifici nessuno ha ancora posto questo focus sul contenimento degli sprechi energetici che noi abbiamo. Per il futuro nostro e dei nostri figli è importantissimo che noi iniziamo a ragionare, come si fa sull'automotive, sulla certificazione e sul contenuto energetico degli edifici. Noi in questa applicazione abbiamo cercato di sfruttare al massimo le energie rinnovabili, quindi mettendo il fotovoltaico, mettendo le pompe di calore, la produzione di acqua calda sanitaria con le pompe di calore. Perché l'energia rinnovabile è l'unica che non usa combustibili fossili e che quindi può essere, in un certo senso, eterna. Pianeta è il nostro campo di gioco, lo rispettiamo, lo valorizziamo e cerchiamo di costruire in questa direzione.